Ciao a tutti, oggi siamo qui con un nuovissimo video, un mini video che durerà qualche secondo secondo me però prima che continuo con questo mini video vi dico di iscriversi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like comunque, oltre, già sapete, Sario, per te lo basso, 1702, sta qui su YouTube che carica i video quasi tutti i giorni, ma da oggi in poi, da oggi, 26 agosto, fino a quando non mi stanco, sicuramente come ho detto al titolo, Sario, trattino basso, 1702, è appena creato un account TikTok per questo andatemi a seguire, su TikTok mi chiamo Sario, trattino basso, 1702, YT comunque, al momento della registrazione, che è il 26 agosto, voi lo vedete questo video, il 26 agosto il primo video, che durerà 10 secondi, ha arrivato a 600, non so, quando è uscito questo video, quanti visualizzazioni ha però, ha 12 like, ha 12 follower, ciò, e in più, il video ha 13 like comunque, però, oltre che sono io su TikTok, c'è anche, Stefanik45 andate tutti quanti a seguirlo, e Rosanik, trattino basso, 7 ok, un po' difficile scrivere, si scrive tipo, Rosanik, con la O con l'accento e la Z con un puntino poi vabbè, tutto normale, ovviamente comunque, se non lo trovate a Rosanik, andate direttamente sul mio video è che Rosanik ha commentato sul mio video di TikTok comunque, datemi a seguire, è il mio sogno in questo canale di YouTube arrivare a 1000 iscritti invece su TikTok arriva a essere, no, per scherzo comunque, il video può finire qua un video, un mini video comunque, noi ci diamo ad un prossimo e noi ci vediamo domani che uscirà finalmente il quarto episodio della vita reale di Minecraft dopo tantissimi giorni che non ho avuto tempo di caricarlo e che è uscita questa stagione 4 di Fortnite non ho avuto tempo per caricare il video, per questo domani uscirà il video, non mi preoccupate perché mi sta facendo sempre qualcosa in testa qualche idea comunque, noi ci siamo ad un prossimo e noi ci vediamo domani ciao 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 ciao